Vedete, non sempre le separazioni sono un fallimento, a volte sono una via d'uscita, sono l'inizio di una nuova vita, diciamo che sono anche una salvezza. È bello mantenere la famiglia unita e portare avanti un matrimonio per tutta la vita, ma purtroppo non è sempre così. E quindi coloro i quali scelgono di separarsi spesso sono i più coraggiosi, perché non vogliono fare finta che tutto vada bene, magari per non scontentare mamma o perché magari non si vuole far parlare di sé tra gli amici o tra i parenti. Non c'è nulla di più angosciante di un matrimonio fallito, o di vivere da separati in casa, o di dimostrare ai figli che l'amore significa accettare qualsiasi cosa che viene in famiglia, non è così. I figli non hanno bisogno di genitori che stanno sotto lo stesso tetto, hanno bisogno di genitori giusti, sereni e felici. Per cui, certo, bisogna fare di tutto per salvare un matrimonio, magari fare un percorso di psicoterapia di coppia, bisogna cercare di capire i propri limiti caratteriali e quelli dell'altro, ma quando non c'è più niente da fare perché sono successe cose irrimediabili, o perché è venuto a meno l'amore, che non è certamente un dettaglio, bisogna avere il coraggio di dire basta. Quindi finiamola con la storia del matrimonio finito, che significa essere dei falliti. Si è falliti quando si fa finta di niente. E ripeto, i figli hanno bisogno di avere genitori sereni, quindi molto meglio anche per loro dire basta dopo averle provate tutte, piuttosto che fingere e prendersi a capelli davanti a loro, o dirsi le peggiori cose davanti ai bambini, perché non c'è nulla di più destruente che due genitori che litigano per tutta la vita, pensando di essere grandi genitori, perché non si sono rivolti al tribunale. Ecco, cerchiamo adesso di parlare finalmente in maniera chiara alle persone, perché nel nostro Paese esiste una grande ipocrisia, salvare le apparenze, ma molte volte le apparenze ingannano, e le apparenze spesso ti portano all'infelicità totale.